I'm Lorenzo Cioce, 22, from Rome. It's December 2013. I'm a simple, crazy student of modern and contemporary history. I attend Sapienza University. I love writing and playing whatever game that human being can see. I'm Niccolò Carosi. 1977 is my date of nascita. It's October 16, when I arrived on this earth. Today I'm here to celebrate an important event, the nascita of a brand, a brand that we will bring in a long time, which is the Spreca Inchiostro. Lorenzo Cioce is the founder of this project. In this project, between the fool and the visionary, we go on to tell you something. My name is Davide D'Amado, I'm 25 years old, I'm going to pass you through the computer. Good luck! Squandering. Da dove nasce? Nasce da people like Tolkien, who made this book for his children, scrivendo lettere che poi faceva trovare sotto l'albero come sorpresa ogni anno, oppure da artisti come la Rowling, che con la saga di Harry Potter ha cambiato un po' l'immaginario del cosiddetto eroe, oppure da fumetti come Batman, che ha fatto diventare l'eroe più umano e quindi con le sue debolezze. Ma visto che siamo vicino a Natale, avviciniamoci all'albero, che è centro e protagonista di tante cose, di tanti ricordi e tante emozioni. Diamogli ecco la luce giusta e sappiamo che c'è un ospite che viene da lontano, dall'Oriente, almeno nel nome viene dall'Oriente. È Asia, giusto? Ecco, eccola. Arriva, 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 arriva. Allora, eccola qua, per un albero diciamo multiculturale, multietnico, ecco Asia, che viene da un allenamento di... da qua vicino mi è stato regalato da un allenatore. Invece questo albero è opera di mia sorella, che ha sempre conservato questa tradizione, e quindi ha mischiato le palline vecchie con le palline nuove, e oggi poi le palline le comprava dai civici, un giorno le ha comprato dai italiani, è così. E invece, diciamo, la chicca, che non è solo mia, è questo preserve che io che c'è. La scuola media, qui è la scuola media di Inca, ma a Roma, tutti i materiali riciclati, e qui è ancora illuminato dopo tanti anni. E quale può essere il proposito per il nuovo anno? Sotto questo Natale, che regalo metterai? Beh, metterò un nuovo mini-eroe, una specie di sogno per bambini, adulti, nonni. Insomma, una visione diversa dell'umanità. Come dice Jeremy Rifkin, insomma, una civiltà dell'empatia. Come dice Jeremy Rifkin, insomma, una civiltà dell'empatia.